Allora papà, oggi ti devo spiegare cos'è il razzismo. Capito? Perché hai visto cosa sta succedendo? Hai visto che a Ballotelli gli hanno fatto il verso della scimmia? Hai visto che addirittura una mamma al campetto ha chiamato sporco negro un bambino? Un bambino! Questo è il razzismo. Quando qualcuno pensa che alcune razze siano superiori e altre inferiori. E questa, papà, è una cosa giusta. Non ti devi fare infinocchiare da questa storia che gli uomini sono tutti uguali. Non è vero, perché gli uomini sono diversi. Noi non saremo mai uguali ai razzisti. Non si fanno distinzioni di razza. Stai lontano dai razzisti che quelli, papà, sono una brutta razza. Vabbè, si capisce adesso. Dai, su. E non fare l'indiano. Ma mica l'indiano. Vabbè, un giorno capirai, dai.